Conosciamo la TBM Barbara, impegnata nello scavo del tratto Agrigento-Caltanissetta A19 del corridoio plurimodale tirrenico Nord Europa. Le imprese CMC, CCM e Tecnis SPA utilizzano a ciclo continuo quest'enorme macchina per la realizzazione di un tunnel stradale con due corsie di marcia e una di emergenza. TBM, acronimo di Tunnel Boring Machine, rappresenta la più ardita attrezzatura per lo scavo di gallerie. Nella imponente testa fresante rotante, dal diametro di oltre 15 metri, sono alloggiati i picchi e i dischi taglienti, oltre agli uccelli di iniezione degli agenti condizionanti di controspinta per il terreno. Il cuore pulsante della TBM è rappresentato dalla Drive Unit, dove alloggiano i motori di rotazione ed il sofisticato sistema di martinetti che consentono una minima rotazione della testa rotante sia in altezza che in asse. Dotazione questa che rende la TBM Barbara un'eccellenza dell'ingegno. All'interno dello scudo di acciaio è collocato il sofisticato sistema di smarino, che partendo dalla camera di condizionamento, trasferisce il materiale di scavo senza interruzione attraverso una vite senza fine ed un nastro trasportatore. Altro componente all'avanguardia è l'erettore, un sistema di leve e tiranti che con controllo computerizzato posiziona gli elementi prefabbricati del peso di circa 20 tonnellate in modo da formare un anello di rivestimento universale che rappresenta la struttura portante del tunnel. Tutto questo processo viene costantemente monitorato e gestito nella camera di manovra da ingegneri e tecnici altamente specializzati. Tecnis, attraverso l'utilizzo della TBM Barbara, conferma la sua tradizione di innovazione nella realizzazione di grandi opere.